E-Man and Master of the Universe Revelation, il fanservice fatto bene. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Come preannunciato sono a parlare della nuova serie animata che trovate su Netflix, Master of the Universe Revelation, che preferirei chiamare col nostro titolo italiano E-Man and Master of the Universe Revelation, che è un ideale seguito, quindi non è un reboot, ma è un seguito ideale della serie a cartoni animati degli anni 80 di E-Man e Master of the Universe. Se non avete ancora visto la serie, vi metto il trailer qua sotto in descrizione e anche la mia trailer reaction qua sotto in descrizione. La differenza con la serie del 2002, che invece era un reboot, è che qua si sono attenuti molto di più al design originale dei personaggi dell'87, quantomeno all'inizio della storia, perché poi appunto è un proseguo e c'è un'evoluzione, cosa che non c'era nella serie degli anni 80, ma in generale i cartoni degli anni 80 non avevano un'evoluzione, non avevano una trama verticale, c'era una trama orizzontale, c'era l'episodio con la sua bellissima trama verticale, che iniziava, c'era il nemico, finiva, basta, amen, finito così. Ma poi tutti gli episodi erano uguali, non c'era un crescendo, qua e là magari si scoprivano le origini di qualche personaggio, qua e là magari si scoprivano le origini dei protagonisti in modo più approfondito, ma niente di più. Qua invece c'è una vera e propria trama orizzontale e chi meglio di Netflix ci ha abituato alle trame super orizzontali, tant'è che quasi non c'è una trama verticale, anche se devo dire che in ogni episodio c'è comunque una storia a sé stante con, diciamo, una piccola morale. No, non sto parlando della morale che c'è alla fine di ogni episodio dell'87 dove Adam guarda in camera e dice Ehi, ciao, oggi abbiamo parlato di Skeletor che picchia le donne, ma è importante che voi bambini non picchiate la vostra mammina perché vi vuole tanto bene. Non c'è una cosa così pacchiana, così esplicita, che tra l'altro era stata fatta negli anni Ottanta per fermare un po' le Karen americane che giudicavano i men magari troppo violento. Qua invece c'è, diciamo, una lezione, una crescita che un personaggio di volta in volta impara, o un personaggio tra i protagonisti imparano di volta in volta e lo impara, lo fa proprio anche lo spettatore. Ragazzi, questi sono i primi tre minuti senza spoiler. Adesso vado a tutto spoiler per altrettanti minuti, spero per voi, e poi ci concentriamo su tutti gli easter egg che abbiamo visto in questa serie. Allora, partiamo con lo spoiler tra 3, 2, 1. Ragazzi, ma che ho visto? Game of Thrones? Cioè, ogni episodio ne moriva uno, ma che cosa è successo? Allora, Kevin Smith ha davvero osato tanto. Si vocifera in giro che Kevin Smith non amasse tantissimo il personaggio di E-Man e tra i detrattori, di cui poi parleremo in un video a parte, pare che appunto E-Man, questo E-Man Revelation, non sia piaciuto. In realtà a me è piaciuto molto proprio perché Kevin Smith ha saputo osare. Vediamo il primo episodio che fondamentalmente è un proseguo ideale della serie vecchia, quindi esattamente dove c'eravamo lasciati tantissimi anni fa. Vediamo che c'è E-Man, c'è Tila che tuttora non sa l'identità segreta di E-Man, Adam ovviamente, il principe Adam, e così vale anche per suo padre, Re Randor. Tutto viene scardinato, distrutto, disgregato nella prima puntata, dall'identità segreta di Adam, che viene scoperta nel modo peggiore da Tila e dal padre di Adam, Re Randor, alla morte di uno dei personaggi molto belli che volevo vedere sviluppati nella serie, ma invece no, fa una toccata e fuga che è Mossman e poi muore lo stesso Adam, sacrificandosi per il bene di Eternia. La povera Tila, che era appena stata insegnita della nuova carica di Manet Arms, appunto al posto di suo padre Duncan, rinuncia a tutto, rinuncia alla carica perché ci sono state troppe bugie nel regno e se ne va per gli affari suoi. Non vuole più saperne di Eternia e della magia che pare essere sempre più agli sgoccioli dopo che Adam ha salvato Eternia dalla minaccia di Skeletor. Salto temporale di diverso tempo, ma non sono stati molto chiari su quanto tempo. Vediamo una sorta di Tila, versione cacciatrice di taglie, che fa la mercenaria... Aspetta, mi è uscito un po' male. Si fa pagare per... Aspetta. Fa delle cose... Ah! Aspetta. Usa le sue doti... No! Usa le sue doti di ex Manet Arms per atturare dei cattivi, svolgere dei compiti, ritrovare manufatti e viene pagata dalle persone che vogliono i suoi servigi. Che fatica! Ritrova sulla sua strada Evil Lean e insieme ci saranno questa sorta di alleanze tra cattivi e buoni, e divisioni tra cattivi e cattivi, e alleanze tra buoni e buoni. Insomma, un bel mischiotto che non si era mai visto mi è piaciuto davvero tanto e serve a far crescere i personaggi. Abbiamo visto che Evil Lean non è solamente evil, può essere anche buona. Abbiamo visto Orko che non è solamente un pasticcione, un pagliaccio, ma può essere anche bravo se si impegna, se qualcuno crede in lui e se lui inizia a credere in se stesso. E mi è piaciuta tantissimo la crescita personale di Orko. Abbiamo visto una Tila che rinuncia alla magia in favore del progresso della tecnologia. Mi ha ricordato molto Buffy nella nonna stagione, quando la magia era stata completamente disattivata. Ecco, in questo mi ha ricordato un po' Buffy, anche per il fatto che la doppiatrice originale di Tila e Sarah Michelle Gellar, e in italiano hanno ottenuto la stessa doppiatrice di Sarah Michelle Gellar in Buffy, ovvero Barbara De Bortoli. Chapeau a chi ha deciso di affidare il ruolo sempre a Barbara De Bortoli. Vediamo gli ex scagnozzi di Skeletor, che alcuni si sono emancipati come Triclops, che è diventato lui stesso un capo di una setta più che di una gang. E invece i personaggi che erano sempre scagnozzi di Skeletor hanno continuato a fare gli scagnozzi di chi ha preso il voto di potere, ovvero Trap Joe ha continuato a fare lo scagnozzo di Triclops. Mentre personaggi come Beastmen li vediamo indipendenti, e quindi né buoni né cattivi, semplicemente selvaggi, e molto molto devoti a Evolin e a Skeletor. All'inizio del primo episodio, l'E-Man, che vediamo a cavallo di questo strano cavallo meccanico, che è poi quello che abbiamo visto anche nel trailer, non è davvero E-Man, ma è Faker, una sorta di versione finta di E-Man, di cui avevano fatto il giocattolo di colore blu con i capelli arancioni, una sorta di bizarro per E-Man. Però poi nel cartone degli anni 80 aveva gli stessi colori di E-Man, le stesse fattezze. Qua hanno optato per una via di mezzo, quindi inizialmente è identico a E-Man, poi gli viene strappata la finta carne e si rivela essere un cyborg. Speravo di vedere il cappello arancione, invece no, è rimasto una sorta di Terminator. Kevin Smith è riuscito a uccidere E-Man non solo una, ma due volte, nella prima e nell'ultima puntata di questa prima parte di Master of the Universe. Un colpo di scena davvero forte, per quello che dico che Kevin Smith ha osato davvero tanto. Ha tolto di mezzo il protagonista nella prima puntata e persino nell'ultima, in un cliffhanger bestiale. I detrattori appunto si lamentano del fatto che E-Man si è visto poco, che è stata più una prima parte incentrata suttila, ma io presumo, spero, che nella seconda vedremo molto di più E-Man, sempre se le cose andranno bene. Hanno però scardinato totalmente il concetto della spada come la spada di E-Man, perché è la spada del potere, chiunque la può impugnare, chiunque acceda alle magie di Grayskull. È stato Adam che è diventato E-Man, ma abbiamo visto che l'ha impugnata anche Skeletor. E questo va ad attingere direttamente dalle origini di questi giocattoli, perché fondamentalmente nascono come giocattoli, ancora prima di tutta la leggenda creata per fare la serie animata degli anni Ottanta. Andiamo meglio a capire quello che ho appena detto con tutti i riferimenti che ho trovato lungo il cammino. Subito nella prima puntata vediamo E-Man, ovvero il principe Adam, che per evitare che l'intero universo collassi su se stesso, assimila tutta la forza, tutta la magia che stava affluendo a Grayskull e per evitare che sia troppa, separa in due parti la spada. Questo è un riferimento al fatto che nei primi giocattoli e nei primi mini fumetti che erano inclusi con i giocattoli, la storia era ben diversa. Non c'era una spada del potere, ma c'erano due metà di una spada. Una metà ce l'aveva E-Man e l'altra metà ce l'aveva niente po' di meno che Skeletor. Se le due metà venivano unite, quella spada diventava una vera e propria chiave per accedere al castello di Grayskull e aprire il Joe Bridge, il ponte mascella, come lo chiamano gli americani, che poteva permettere a chi possedeva entrambe le spade di entrare a Grayskull e carpirne i segreti. Questo lo abbiamo visto nel primo episodio ed è tratto esattamente dai mini comics che hanno un'origine indipendente dalla serie della Filmation, perché sia i fumetti che la serie animata della Filmation sono nati successivamente ai giocattoli per vendere i giocattoli. Persino E-Man all'inizio non aveva un alter ego, non aveva il principe Adam, era semplicemente una sorta di barbaro alla Conan il Barbaro, tant'è che nei primi fumetti viene chiamato Savage E-Man, fondamentalmente questa sua forma di barbaro che viene ad Eternia per salvare la situazione. E c'è anche una versione, alcuni pensano sia ufficiosa, alcuni pensano sia ufficiale, di questo Savage E-Man chiamata Wundar. Questo Wundar ha queste caratteristiche che vi faccio vedere, praticamente è lo stesso giocattolo di E-Man, però senza la spada del potere, ha questa sorta di armatura nera e non ha i capelli biondi ma un caschetto castano. È stata una figata vedere questo personaggio nel regno di Pre-Eternia, questo paradiso di Eternia, tra i valorosi guerrieri che si sono guadagnati il posto in paradiso con tutta la loro forma corporea, un po' come ci spiega Dragon Ball, ovvero che tutte le anime rientrano, diventano spiriti, qua in Pre-Eternia invece vanno a contatto, tornano insieme alla natura diventando una foresta, tranne i guerrieri più valorosi che possono scegliere la loro forma che preferiscono. Insieme a Wundar, sempre in Pre-Eternia, abbiamo trovato anche Hero, che è un giocattolo che rappresenta un antenato di E-Man ed è stato uno dei primi eroi di Eternia. Pre-Eternia, nei primi fumetti, non era in realtà il paradiso di Eternia, ma era la pre-istoria di Eternia, quindi in Pre-Eternia sarebbe il tempo del passato. Qua invece lo collocano come una specie di paradiso terrestre, chiamiamolo così. Il personaggio di Hero ha solo avuto una figure, ma non è mai entrato nella serie animata. In realtà doveva avere uno spin-off, ma non è andato a buon fine. Mentre quello che vediamo come Pre-Eternia, quindi questo magico regno con una sorta di strada sospesa nel cielo e questa entrata che sembra la caverna delle meraviglie di Aladin, è paro paro il playset di Eternia degli anni Ottanta. Ve lo metto sempre qua. Ovviamente non mancano nemmeno il castello di Grayskull, che ovviamente è preso paro paro dal castello di Grayskull del playset degli anni Ottanta, e anche la montagna del serpente che è la Tana di Skeletor. Tra i protagonisti che sono a parte del segreto di Adam abbiamo ovviamente Duncan, Manetans, che è il padre di Tila. Tila stessa che vediamo in questa figure in cui indossa una specie di corona che la fa sembrare una dei cattivi, che sembra che sia degli uomini serpenti, in realtà è una dei buoni. È figlia di Duncan, è esperta nel combattimento, nelle armi, senza bisogno di spade del potere. Ed è anche la figlia segreta di Sorceress, la maga, che è un'altra dei protagonisti che conosce il segreto di Adam, anzi è stata lei a donargli la spada del potere. Per qualche ragione, che ora non sto a spiegarvi, Sorceress non vuole che Tila sappia che lei è sua madre. Sarà un altro segreto che sconvolgerà la vita di Tila dopo quello di Adam. E visto come ha reagito al segreto di Adam e Iman, non credo avremo una Tila poco arrabbiata nella seconda parte, se mai glielo spiegheranno nella seconda parte. Un altro dei personaggi che abbiamo visto è Orko, che qua vi metto in questa versione. Io da piccolo avevo un'altra versione che vi farò vedere in un video a parte di vecchi giocattoli, che forse è più similare a quello che c'era nei cartoni. Ovviamente abbiamo Cringer, che nella vecchia serie animata in italiano era chiamato Cringer, però è più corretto Cringer, cioè colui che genera cringe, che si trasforma nel coraggioso Battle Cut. Una tigre alta come un cavallo. Se volete scoprire il motivo per il quale questa tigre è così grande, vi consiglio di guardare il documentario su Netflix, Toys That Made Us, i giocattoli della nostra infanzia, la puntata dedicata a Iman. Oppure, se volete approfondire ancora di più, cercare sempre su Netflix Il Potere di Grayskull, un documentario di un'ora e venti che spiega le stesse cose di quella puntata, ma in maniera molto più approfondita. Sempre tra i buoni abbiamo visto Mossman, che appare per pochissimo, che è questo giocattolo qui, che in realtà è arrivato successivamente a Beastman, e se ci fate caso è la stessa versione, ma hanno modificato il personaggio. Mossman era fatto con il muschio, mentre Beastman era fatto con dei peli, non ricordo se c'era davvero una pelliccia o se era plastica, però ecco, queste sono due versioni dello stesso personaggio che in realtà sono diventati due personaggi nella serie. Lo stesso fatto vale per Merman, che abbiamo visto molto poco, che è diventato una sorta di Namor, di Aquaman, domina gli abissi, quindi ha una sua indipendenza, ora che Skeletor non c'è più, e Stinkor, che è rappresentato come una puzzola. Anche Stinkor non ha mai avuto la fortuna di approdare nella serie animata, c'era solo il giocattolo, ed è uscito prima Merman e poi Stinkor. Stinkor aveva la particolarità, il giocattolo, di puzzare davvero da far schifo. Mi ha fatto molto piacere che abbiano fatto fare un cameo a Stinkor, anche perché io, che non sono vecchio, ma non così vecchio, non ho avuto il giocattolo di Merman, ma avevo Stinkor, perché è uscito molto dopo rispetto alla prima release dei Master of the Universe. Una cosa invece opposta è successa nella serie TV attuale, i Merman e Master of the Universe Revelation, ovvero che due personaggi distinti siano stati, diciamo, agglomerati in un'unica entità. Sto parlando di Skeletor e di Scareglow, che apparentemente anche nei giocattoli pareva essere una versione di Skeletor, ma poi l'hanno definita un personaggio totalmente diverso. Qua vediamo Skeletor nella sua forma fisica, che appunto è Skeletor, mentre vediamo nell'inferno, negli inferi di Eternia, vediamo questo Scareglow rappresentato come un'entità astratta di ciò che era Skeletor, portato lì dal potere della spada spezzata. Un po' come il teschio rosso di Captain America, che quando viene trasportato dalla Gemma dello Spazio su Vormir, non è più la persona che era prima, ma è una sorta di fantasma. Hanno più o meno usato lo stesso concetto, anche se non mi coincide proprio poi con il fatto che Skeletor era presente anche nello scettro di Evolin. Non lo so, forse dovrei rivedere meglio quella puntata. In una scena flashback di combattimento in cui erano presenti Iman e Tila, vediamo combatterli con Whiplash, un personaggio che io non conoscevo, ma di cui appunto c'era il giocattolo che vi metto qua in descrizione. Ovviamente lì viene mostrato come un mostro enorme, in realtà era alla stessa altezza degli altri personaggi. Mi è piaciuto come hanno mostrato anche l'evolversi di tutti questi personaggi. Vediamo che Whiplash si è adattato alla setta di Triclops, diventando una sorta di cyborg dopo la sconfitta con Iman. Ultima chicca finale per gli amanti di Rick e Morty. C'è un personaggio a cui Rick e Morty si sono ispirati nel loro cartone animato che è presente in Iman, The Master of the Universe Revelation e che ovviamente era presente anche nella serie originale, mentre c'è un altro personaggio presente nella serie originale che però qua in Revelation non c'è, ma anche a quel personaggio Rick e Morty si sono ispirati. Mi sto riferendo a Roboto che assomiglia molto a Rotella o comunque a quell'alieno pieno di ingranaggi che vediamo negli episodi di Rick e Morty. Roboto è stato un personaggio fondamentale molto importante in Revelation. È a tutti gli effetti una sorta di figlio adottivo di Duncan in quanto è Duncan che lo riporta alla vita, che lo ripara per un paio di volte nella serie originale. Mentre un grande assente in Master of the Universe Revelation è Stratos che ricorda molto per Succello a cui appunto personaggio di Rick e Morty a cui si sono chiaramente ispirati. Ci sono questi riferimenti a Master of the Universe in Rick e Morty ovvero per Succello e Rotella sono niente un po' di meno che Stratos e Roboto. Bene, il video al momento finisce qua. Se voi avete trovato altre reference scrivetemele qua sotto mentre se siete curiosi di approfondire quello che ho detto io guardate voi qua sotto nella descrizione perché vi metto tutti i link necessari sia in italiano che in inglese da dove ho preso queste informazioni. Sicuramente uscirà un video in cui vi mostrerò i vecchi giocattoli di E-Man io ne ho pochissimi sicuramente pochissimi intatti mi farò aiutare dai miei figli amici Paolo e Lorenzo con cui ho già girato un video con la maglietta di Cotto e Frullato ovvero quello di Cotto e Shazam che vi metto qua in descrizione qua nelle schede e se volete che io faccia magari una recensione più incentrata sulla trama di E-Man lasciando perdere i riferimenti scrivetemelo qua sotto nei commenti penso comunque di farla però magari avrò meno da dire di quello che penso quindi al limite sarà un video molto corto però lo farò a meno che voi non mi dite no grazie sono a posto così io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci nel prossimo video ciao bambini quest'oggi abbiamo parlato di E-Man e Master of the Universe Revelation che abbiamo visto su Netflix e questa serie ci ha insegnato una cosa che anche un reboot può essere fatto bene quindi qual è la morale questa volta Skeletor? che chiunque può avere una seconda possibilità e una seconda possibilità può essere fatta bene quindi mi raccomando bambini date una seconda possibilità a chiunque a chiunque a chiunque l'immenso ora